Profumi di montagna è il miglior piatto cucinato nella prima tappa del concorso primi di Toscana e finisce così in finale. È entrata nel vivo la sfida fra i 14 istituti alberghieri lanciata dalla regione per raccontare la Toscana attraverso i piatti della tradizione culinaria regionale. La prima sfida si è svolta all'istituto Martini di Montecatini Terme. È una gara molto importante sia per loro anche per la scuola perché i piatti oltre ad essere valutati dal consorzio di fagioli solana uno di questi piatti rappresenterà la scuola al concorso regionale insieme a tutte le altre scuole alberghiere toscane. Qui la giuria ha selezionato tra cinque piatti quello da eseguire alla prova finale che si terrà all'istituto alberghiero Saffi di Firenze. In questo caso a vincere tra tutti i piatti cucinati con l'unione del fagiolo di Sorana prodotto tipico di queste zone è stato quello di Jonathan Fedeli Profumi di montagna. Ho cercato di abbinare dei prodotti della mia zona con i prodotti che ho incontrato nel venire anche a Montecatini ovvero il fagiolo di Sorana e l'asparago pesciatino. Della mia zona ho portato i funghi porcini, il lampone della betone, le patate rosse della montagna pistoiese e il pecorino della montagna pistoiese che è un presidio slow food. Questa gara tra scuole organizzata dalla regione toscana è finalizzata a testare le conoscenze acquisite dagli studenti degli istituti alberghieri attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro. I primi piatti preparati dagli alunni e i vini proposti in abbinamento daranno vita a un vero e proprio mosaico delle tradizioni locali toscane.